Salve professoressa! Le dovrei chiedere dei compiti! È una bellissima giornata, mi puoi spiegare quanto fa 2 più 2? Muoviti. Allora, per finta che ti è caduto un bracciale. Oh no, cavolo, il mio bracciale? Dov'è finito? Potrebbero scoprire che lei rimane ferma tutto il giorno su Windows. Mentre gli studenti fumano in cortile, è possibile. Guardando le pianure, delle montagne, delle colline. Le colline di Windows, scusa. Le colline di Windows. E ragazzi, come va? Io sono Firenichi. E io sono Steph. E quest'oggi giocheremo a Yandere Simulator. E purtroppo abbiamo una brutta notizia. Perché far vedere a tutta la scuola le foto sconce di Cocona non è bastato. Lei, ogni giorno, continua a presentarsi in classe come se nulla fosse successo. È proprio il nostro duro. Cioè, se l'avessero fatto a me, probabilmente sarei andato in un'altra scuola dalla vergogna. Ma mi sarei sotterrata sottoterra, guarda. È assurda, è imbattibile. Ed è per questo che abbiamo deciso di attuare un piano che speriamo sia più efficace. Perché è un piano che si svolgerà in cinque giorni. Ok. E cercheremo di far abbassare sempre di più la sua reputazione. Così la preside deciderà di buttarla fuori finalmente. Mi piace, è proprio un progetto a lungo termine per eliminarla dalla scuola. L'altra volta abbiamo semplicemente fatto delle foto. Non è bastato, quindi bisogna fare una cosa più efficace. Ok, ok. E partiamo subito dal primo giorno. Aha. Cercheremo di ottenere il suo segreto più nascosto. Ok. Sai come faremo? Come, come? Chiederemo aiuto ad InfoChan, che ovviamente vuole una ricompensa perché non fa le cose gratis. Certo, la conosciamo bene. Vuole una foto di mutandine. Non mi stupisce per nulla, guarda. Te lo stavo per dire io. Quindi dobbiamo assolutamente procurarci una foto di mutandine, mandarla di nascosto a InfoChan e lei ci dirà il segreto più terribile di Cocona. Sei pronto? Sono prontissimo. Devi stare attento perché non ti devi far vedere da nessuno. Ok, ok, ok. Devi proprio accucciarti, fare le cose di nascosto. Sono bravo, guarda. Altrimenti rischiamo di essere scoperti e va tutto a monte, te lo dico, devi essere super prudente. Sono concentratissimo. Si sta nascondendo con le mani. Ok, ok, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, scappiamo, scappiamo. Scappa, scappa, che stanno notando qualcosa di strano nel tuo comportamento. Ok, adesso. Cosa c'è di strano, scusami? Spostati e non farti vedere è contatta InfoChan. Contatta InfoChan. Va bene, sì. Cosa c'è lì per terra? Una cassetta. Una cassetta, ok. Ce la prendiamo. Non ci interessava, ma va bene. Va bene, era lì, era lì. Allora, contattala, mi raccomando non farti notare. Guarda. Perfetto. Vediamo che ci dice. Allora, leggi, 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 leggi. Oh mio Dio. L'abbiamo beccato. Abbiamo beccato uno di quei segreti che è proprio, bam. Cioè, io pensavo ci avesse detto qualcosa di un po' meno terribile. Io mi aspettavo una cotta, una cosetta del genere. E invece è una brava. E invece il segreto. È una di quelle ragazze cattive. È di quelle ragazze furbacchione. Perché il suo segreto è... Non riesco neanche a dirlo, guarda. Praticamente lei vende le sue mutande usate a un ragazzo di un'altra scuola. Io non so come dirlo, mi vergogno mentre lo dico. Mi vergogno per lei. In realtà dice, Sterling, use the panties. Non dice le sue. Quindi potrebbe vendere anche quelle di altre studentesse. È ancora peggio. No, pervertita, Cocona. Vedi che stiamo facendo un favore all'intera scuola a buttarla fuori. Non cercare motivi che non ci sono. Comunque... È un motivo esistente, quindi andiamo subito a dirlo alla preghiera. Esattamente. Signora preside, le dobbiamo dire una cosa importantissima. Abbiamo scoperto una cosa terribile che riguarda una sua studentessa. La deve assolutamente sapere e prendere provvedimenti. Esattamente. Sta influenzando le altre studentesse perché ha un atteggiamento terribile. Addirittura le ruba le mutandine negli ospediatoi. Cioè lei va negli armadetti, le ruba di nascosto e le vende per soldi per comprarsi le torte. Le altre studentesse iniziano a sentirsi a disagio, quindi deve prendere provvedimenti. Esattamente. Ai ai ai, la preside si è arrabbiata tantissimo e ha convocato Cocona nel suo ufficio. Ai 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 ai, non va per niente bene. Vedo guai in arrivo per lei. Assolutamente. È arrabbiatissima. Guarda, la sta bacchettando. Sai cosa dice? Dimmi. Dice che con il suo atteggiamento potrebbe distruggere la reputazione della scuola. Hai ragione, perché non ti puoi comportare così quando sei a scuola. Cioè non le puoi fare queste cose. Guarda, sta cercando di giustificarsi ma non riesce neanche a parlare. Ed ecco qua. Ed ecco la sua reputazione che scende. La sua reputazione che scende e siamo sempre più vicini a distruggerla. Il piano sta iniziando a funzionare. Secondo giorno è secondo piano diabolico da attuare. Oh yes. Questa volta faremo qualcosa di un po' diverso. Perché non è che bastano solo i suoi segreti. Certo. A farla buttare fuori. Questa volta la faremo accusare di un furto. Vedi che adesso qui le ragazze si siedono a mangiare? Ok. Ovviamente quando mangiano si levano i gioielli perché danno fastidio mentre stai mangiando. Noi ci nasconderemo. Aspetteremo il momento giusto. Ruberemo un gioiello e lo metteremo nella borsa di Cocona. Che lei ovviamente ingenua l'ha lasciata in classe incustodita. Quindi ne possiamo approfittare e farla incolpare di un furto. Che anche questa è una cosa gravissima. È un piano malvagissimo proprio. Assolutamente. È bellissimo. Non lo trovi geniale? Certo che è geniale. È bellissimo. Guarda lo vedi? Lo vedi l'anello? Dobbiamo fare il piano. La foto ricordo. Poi per immortalare tutti i momenti nella nostra bacheca. No ma poi proprio il piano. Capito? Allora. Lei è distratta da quella ragazza. Ok. E c'è l'anello lì. Secondo me possiamo provare proprio a fare tata e scappiamo. Esatto. Tu ve li fai facendo finta di salutare tipo ciao ragazza che bella giurta. Poi fai funtalo, metti in tasca e corri subito a metterlo in classe. Ok vado. Ok vado. Bello il pranzo. Buono buono. Ok io ti sono accorti di nulla. Corri corri corri. Vado 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 vado. Devi essere veloce perché nessuno ci deve vedere. Se mi ricordo bene è qui. Ok. Altrimenti il nostro piano fallisce. Ma questo è il nostro senpai? 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 Stai camminando sul banco? No 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 no. Non è questa la casa? È una protezione fatta da Cocona per allontanarci dalla sua borsa. Vedi l'ha messa qua di guardia. Siccome già è innamorata di lui dici che l'ha convinta a rimanere di guardia. Con questi i baffetti. Oh mio dio che bello senpai. Lo devi far vedere è troppo bello. Guarda senpai scusa non ti posso guardare. Vedi la sua borsa? Allora fai finta di camminare per andare a quegli armadietti. Ok. Oh la matita mi è caduta. Ma non è una matita in mano. Ma non fa neanche. Ok devo stare in piedi. Ok lo piazzo. Vedi noi volevamo fare anche le cose per bene. Vai vai vai. Non ti sta guardando nessuno. Ok scappo 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 scappo. Anche l'insegnante era distratta dalla bellezza del senpai. Vedi il piano di Cocona le si è ritorto contro. Perché lei voleva usare senpai. E invece tutti rimangono attratti da lui. E noi possiamo attuare le nostre cose nostre. Quanto vorrei che mio marito avesse quei bei baffetti che ha senpai. Quanto vorrei avere dieci anni in meno. Per poterci provare col senpai. Ma non è così. Mi dispiace. Signora preside. C'è qualcuno che sta cercando guai. La signorina Cocona continua a fare cose brutte. Brutte 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 brutte. Ma signora preside io dico è già il secondo giorno che fa un qualcosa di terribile. Prima il segreto. Adesso ruba addirittura una sua compagna di classe. Cioè queste cose sono inammissibili nella scuola. Esattamente. Deve prendere provvedimenti. Bisogna mandarla via dalla scuola perché potrebbe influenzare un bel po' di studentesse. E guarda possiamo dire alla preside che Cocona non ladra. Guarda. E infatti lei è arrabbiatissima. È arrabbiatissima. Guarda la sua faccia. L'hai vista com'era proprio. Diceva è impossibile che nella mia scuola succedano queste cose. È impossibile. Dovrà prendere provvedimenti seri. E sappiamo che lo farà. Bello. Il Windows. Cosa stava finta di usarlo? Le colline di Windows. Eh vabbè magari non. Allora. Allora. No. Sì. No scusa un attimo. Non discutiamo del lavoro della preside. Ok. Non ci interessa l'importante che faccia spellere Cocona. Quindi se quello lo fa a noi va bene. No perché magari capito. Se c'è gente come Cocona nella scuola è proprio perché la preside sta ferma sul portatile senza fare nulla tutto il giorno facendo finta. Non ci interessa perché se poi ci facciamo nemica la preside. No sì certo. Lei non la butterà mai fuori. Hai ragione. Quindi non ci conviene. Lasciamola stare. E la reputazione di Cocona scende ancora. Anche in questa giornata il nostro piano è andato a buon fine. La preside l'ha bacchettata a dovere. Gli ha detto di tutti i colori. Gli ha detto proprio di non permettersi più di rubare. Giustamente. Lei ovviamente ha cercato di giustificarsi ma non ha funzionato perché siamo stati troppo abili. Non è credibile. Dopo che vieni scoperta a contrabbandare mutandine. Eh cioè come ti posso? Se dici no io non ho rubato. Nessuno ti crede. Giustamente. E noi ne approfittiamo. Esattamente. E siamo arrivati al terzo giorno del nostro piano. E tu perché stai correndo? Abbiamo un compito da svolgere. Ti devi muovere. Perché la sta allenando. Più corre più è veloce a scappare. Quindi le sto facendo fare un po' di corsetta. No ma io in verità ti ho detto di venire qua dietro per un motivo più importante. Ah ok io pensavo perché c'era la pista invece no. Non per correre. Per una cosa più importante. Ok dimmi dimmi. Mettiti di fronte a quelle finestre. Ok ci sono sì. Perché in questa scuola sai cos'è illegale? Avere delle sigarette. Non mi sorprende. Noi ovviamente contatteremo InfoChan che è la nostra contrabandiera. Certo di fiducia. Di fiducia. Farà cadere delle sigarette da una di quelle finestre. Ok. E le nasconderemo sempre nella borsa di Copona. Questo è brutto. Questo è gravissimo. È gravissimo perché proprio viene considerato totalmente illegale. Cioè preside dovrà prendere provvedimenti assolutamente. Ok quindi compriamo un pacchetto di sigarette sempre per un'altra mutandina. Va sempre specificato. Ok. Ok ecco le sigarette. È lo stesso. Prendile e corri a metterle nella borsa di Copona. Andiamo. Io ti farei notare che comunque anche InfoChan è molto molto strana. Cioè contrabbanda foto. Fino a quando. Contrabbanda sigarette. Ma come fa a portarsi delle sigarette dentro la scuola? È pazza. Ma fino a quando non ha interesse per Senpai può essere nostra alleata. Quindi sinceramente se è un po' strana io non la giudico. Io non la giudico perché in questo mondo tutti sono strani. Quindi fino a quando non le interessa Senpai e i suoi baffetti. A lei le permettono di stare in una stanza chiusa al buio. Non vorrei dire. Ma perché lei ha fatto cose strane. Ha fatto dei favori alla presi dagli insegnanti. Pensi che abbia contrabbandato un po' con tutti. Sì, quindi sia appunto la contrabbandiera della scuola. Esattamente. È una parola che ho inventato. Lo sai, non esiste. Guarda l'insegnante. Aspetta, aspetta. Non farti notare dall'insegnante. Guarda come ti guarda. Salve professoressa. Le dovrei chiedere dei compiti. È una bellissima giornata. Mi può spiegare quanto fa 2 più 2? Muoviti. Allora, per finta che ti è caduto un bracciale. Oh no, cavolo, il mio bracciale? Dov'è finito? Muoviti, muoviti. Sicuramente sarà qua. Sì, beh, proprio qui. Eccolo, aiuto. E scappiamo correndo. Ok. Ovviamente la professoressa non si fa mai delle domande. Che noi sempre vicino a quella borsa. La borsa lì, a lei non è frega niente. Probabilmente Infociana ha corrotto pure lei. Perché tu queste cose le sottovaluti. Ma probabilmente ha corrotto anche l'insegnante. Per far sì che il nostro piano vada a buon fine. E ovviamente andiamo a dirlo alla preside. Preside! Preside! Signora preside, terzo giorno di fila in cui Coccona combina qualcosa. Sa perché l'abbiamo vista in cortile fumare. Quindi ha sicuramente delle sigarette nella sua borsa. Io non vorrei dire, ma questa, cioè, andrebbe arrestata. Questa è una cosa inammissibile. Non solo stava fumando. Le stava anche offrendo alle altre studentesse. Quindi vede, è sempre un pericolo per tutta la scuola. Cerca di coinvolgere le altre studentesse nelle sue malefatte. Ma come può permettere che rimanga ancora dentro questo istituto? È impossibile. Tu pensa se qualcuno sta passandogli in zona e la vede. E pensa, cavolo, ma in questa scuola si può fumare? Cioè, fanno fumare alle studentesse? Cioè, distrugge la reputazione della scuola. Ma rischiano di arrestare anche la preside per una cosa del genere. Io non vorrei dire, ma rischiano davvero. Perché indagando potrebbero scoprire che lei rimane ferma tutto il giorno su Windows. Mentre gli studenti fumano in cortile. È possibile. Guardando le pianure, delle montagne, delle colline. Le colline di Windows, scusa. Le colline di Windows. Ai, ai, ai. Sento un puzzo di guai per Coccona. Per il giorno di fila in cui viene convocata dalla preside. Non vorrei dire. Ti andrà a rischiare. È grave. È assolutamente grave. Dice che ha trovato delle sigarette nella sua borsa. E lei dice, no, ma io non fumo. Qualcuno le ha messe lì dentro. Ma vedi, poi usa ogni giorno la stessa scusa. Esatto. Non è credibile. Non è credibile. Inventati una scusa tipo, no, ma sono di mia madre. Le ha messe per sbaglio nella mia borsa. Si è confusa. Mi scusi. Non si ripeterà più. E invece no. La sua reputazione continua a scendere. Vedi? Ormai manca poco. Ok, comunque ci fermiamo così, ragazzi. Ci fermiamo a metà del piano perché le ultime due giornate... Non tanto metà. Ci mancano solo altri due obbiotivi. Però direi che siamo abbastanza stanchi. Abbiamo fatto un sacco di cose. E poi sono più sofisticati. Quindi c'è bisogno di tempo per prepararli perché qua si farà qualcosa di grosso, ragazzi. Sono terribili i prossimi due, ragazzi. Potrebbe finire anche in galera, secondo me. Che dici? Secondo me, ma saranno quelli che al 100% la butteranno fuori dalla scuola. Esattamente. Beh, ragazzi, il video è finito così. Se vi è piaciuto, ascoltateci un bel like. E se è la prima volta che vedete un nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdere gli altri episodi. Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao!